buonasera a tutte ragazze benvenute sul mio canale anche in ora tarda almeno per me allora questi sono gli orecchini safari perché hanno questi colori un po come il safari no molto belli a me piacciono molto vedete molto compatti vedete bellissimi mi piacciono allora vi elenco il materiale occorrente ovviamente io faccio un altro tipo di perline perché non ho i bicono sufficienti per fare lo stesso e anche il caboscia centrale quindi ve lo faccio in un altro colore poi voi fate come come meglio credete insomma come vi piace quindi i materiali sono questi allora delle miyuki da 8 11 e 15 e anche le 11 di un altro colore io ho preso questo non so se si vede questo un po sembra un lava ma non è un po un arancione molto scuro e opaco poi dei mezzi cristalli delle gemme duo e dei biconi da 3 mm e appunto un caboscia da 12 io userò questo adesso vi faccio vedere le etichetta questo è quello gold che è questo eccolo qui da 18 mm questo è il codice oppure quest'altro colore capri eccolo qua allora ci vuole poi il filo far line da 15 mm e un ago da 11 da 10 scusate un ago da 10 e poi un perno io al momento avevo messo questo poi non so che metterò quest'altro comunque un qualsiasi perno che mi piace ok allora partiamo con il che io ho già incastonato il caboscia anche se poi ho sbagliato perché le miyuki che ho preso non sono miyuki ma sono toko e quindi ho dovuto un po modificare l'incastonatura comunque ho fatto 36 miyuki 36 11 0 ho fatto un giro oro e un giro ruggine chiamiamolo chiamiamolo così per finire con loro diciamo con le gold e poi ho fatto tre giri di 15 non so se qui si vede meglio forse qui per si vede meglio non lo so vedete sono tre giri 123 poi c'è quella da 11 ultima quindi si dovrebbe vedere bene e quindi niente ho fatto un incastonatura molto semplice quindi è facilissima quindi mi preparo e sono subito da voi allora ragazze mi porto ad uscire da questa 11 dell'incastonatura centrale quella oro la gold vedete e metto sul lago una 11 due gem duo aspettate che le voglio trovare che almeno si veda loro e un'altra 11 0 così quindi esco da qui salto questa subito dopo e dentro in quella successiva vedete così non in tutti e due in una e tiriamo fino no va bene sono sempre la solita non risolvo questo proprio quindi così poi prendiamo una 11 un mezzo cristallo l'ho detto il mezzo cristallo mi ricordo una 11 e un mezzo cristallo è un'altra 11 non so se l'ho detto in apertura il mezzo cristallo se non l'ho detto c'è quindi lo stessa cosa salto questa e dentro in quest'altra ok adesso dobbiamo fare la stessa cosa con le gem quindi una 11 0 2 gem e una 11 0 scusate ho la braccialetto che fa rumore quindi salto una e dentro nell'altra poi un'altra 11 un altro mezzo cristallo un'altra 11 un altro mezzo cristallo e un'altra 11 salto quella successiva e dentro nell'altra ecco qui questo è quello che dobbiamo fare ora io io mi devo ricordare cosa ho fatto ok allora abbiamo fatto che prendiamo una 11 una 80 e un'altra 11 io esco da questa dentro subito immediatamente in quella successiva in questo modo vedete dobbiamo farlo fino alla fine del giro di questo metà giro e debbono essere 880 a dopo eccoci qui a giro finito ora esco da questa 11 dell'incastonatura entro nella 11 sotto la gemme e anche nella gemme così ok adesso salgo sulla gemme opposta questa mettiamo sul lago senza che mi impigna il lavoro ok mettiamo sul lago aspettate che guardo ok una 11 non mi ricordo se era 15 mi sembra 11 aspettate che leggo allora si era una 11 un bicono e una 11 e mi inserisco nella 11 nel mezzo ai mezzi cristalli questa poi prendiamo un'altra 11 un altro bicono da 3 e un'altra 11 e mi inserisco nella gemme 2 ora al centro della gemme 2 qui dobbiamo mettere 3 gemme 2 senza nient'altro solo 3 gemme 2 allora andiamo in modo che ci sia dell'oro ok questo non ci sono proprio 2 trovata e 3 quindi 3 gemme 2 così e mi infilo nell'altra gemme 2 subito dopo e qui dobbiamo fare la stessa cosa quindi una 11 un bicono da 3 e 11 e mi inserisco mi è caduta mi inserisco nella 11 sopra i mezzi cristalli così ora di nuovo una 11 un bicono da 3 e 11 e mi inserisco nella gemme a questo punto ci ritroviamo in questo modo però dobbiamo fare dobbiamo mettere subito ops dobbiamo mettere subito qualcosa qui in mezzo anche se non partiamo da qui ma non fa nulla quindi mettiamo una 11 un mezzo cristallo e una 11 così e messo mi sono persa l'11 quindi e mi inserisco nella gemme successiva ecco qui in questo modo ora qui dobbiamo mettere 2 11 0 2 11 0 ed entriamo nella 8 questa qui nella 8 ok e qui mettiamo il mezzo cristallo e scusate il bicono ma ce l'ho che i mezzi cristalli oggi allora un bicono ed entriamo nella nell'otto successiva nella 8 successiva e tiriamo il filo così quindi un altro piccolo mi spungono un altro piccolo ok un altro piccolo così un altro piccolo ok un altro piccolo però ok è l'ultimo quindi questo punto finito il giro dei biconi mettiamo 2 11 0 ed entriamo nella jam 2 qui mettiamo o mi si è tolto il filo scusate come qua perché sto al contrario vedo la scritta al contrario va bene mettiamo sul lago una 11 ho sbagliato 11 11 un mezzo cristallo e una 11 così e ci inseriamo usciamo dalla gemma e ci inseriamo nell'altra jam 2 così ok e poi dobbiamo rientrare nella 11 nel piccolo occidenti nel bicono e nella 11 successiva così e qui mettiamo una 11 al centro qui entriamo nella 11 nel bicono e nella 11 ok adesso dobbiamo mettere sul lago 3 11 0 e risaliamo nella gemma quella alta ok poi una 11 un bicono da sempre da 3 è una 11 così e rientriamo nella gemma ora di nuovo una 11 un bicono è una 11 ed entriamo nell'altra gem 2 ok adesso dobbiamo fare qua qui in questo qua in questo posto come abbiamo fatto in questo posto in questo fatto da questo lato e poi ripassiamo no no non è vero ho detto una bugia quindi rimettiamo le 3 11 0 scendiamo e rientriamo lo facciamo insieme aspettate un attimo che metto un po di 11 0 che non finita allora rientriamo ho messo le 3 11 0 sul lago e rientriamo in questa 11 anzi sai che facciamo rientriamo direttamente qui che non mi ricordo no no entriamo nella 11 mi ricordo il passaggio successivo se l'ho fatto primo dopo però penso dopo quindi rientriamo mi dai questa 11 non me lo vuole dare ok entriamo questo in questa 11 tiriamo il filo e a questo punto dobbiamo fare così prendiamo un po di 15 0 me le metto qui e prendiamo 5 15 0 5 15 0 3 4 e 5 ok e dobbiamo rientrare adesso non mi ricordo se dobbiamo fare così o così allora dal basso guardate giro il lavoro e prendo la 11 in questo verso qui la 11 sotto la gemme 2 la prende in questo modo però no non mi piace quindi la prendo così che non mi ricordo come l'ho presa così dall'alto al basso tiro il filo vediamo se è così è adesso prendo 3 15 0 2 e 3 e si rientro sempre nella 11 sotto alla gemme vedete così dal basso all'alto in alto e qui c'è una 15 che ecco qui ok in questo modo adesso bisogna prendere altri 5 15 0 3 e dai 5 e rientriamo nella 11 dopo il bicono questa ok a questo punto rientro nella gemme 2 quelle sotto vedete rientro qui e metto sul lago una 11 0 un bicono da 3 e 1 11 0 così e rientro nella gemme 2 sempre nel foro alto e tiro il filo così ok adesso rientriamo anche nella 11 0 questa qui la vicino al vicino al bicono rientro anche nel bicono e nella 11 successiva tiro il filo prendo una 11 agli incidenti rientro nella 11 nel bicono e nella 11 adesso qui dobbiamo mettere 5 15 0 3 4 e 5 e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima e però perché queste queste 15 0 a volte non passano quindi adesso adesso rientro nella 11 0 in questo verso vedete quella sotto alla gemme e e tira il filo ne prendo altre 3 di 15 0 2 e 3 e si e rientro dal basso in a e all'alto nella nella 11 sotto la gemme questa in questo modo quindi mettiamo altre 5 4 e 5 e rientro nelle perline che ho da fronte insomma per quelle che vengono dopo e tiro il filo ora risalgo fino a metà giro vediamo mi sembra che sia il quarto 3 e 4 e perché non entri 1 2 3 e 4 1 2 3 4 quindi adesso mettiamo sulla facciamo subito il cappietto 6 11 0 5 e 6 e rientro nel bicono mi vedete sì così poi ripasso tra le berline di nuovo sta finendo il filo ok rientro nella 11 e nella 8 cioè ripasso anche questi bicono bicono 8 bicono 8 bicono 8 rientro anche nell'ultima 8 e dovrei essere nella prima nella prima no tutte tutte aspettate che non riesco a prenderla ok con queste unie lunghe ok quindi 5 15 0 e 5 e mi infilo nella o nella 11 sottostante prendo altre 3 quindi 10 0 rientro sempre dal basso di io sono uscita fuori scusate dal basso in alto aiuto mi sono fatta male sono punto ecco qui così poi di nuovo 5 3 4 e 5 e inserisco nell'11 subito dopo la gemma quindi ripassiamo ecco mi ritrovo di nuovo con queste pure migliorchi non so perché vanno così eppure il filo non è anzi quindi ripassiamo no questa no sì questa sì io passo sotto è uguale ripassiamo queste ripassiamo queste saliamo lo riesco ecco qua ok ok e poi risalgo di nuovo sulla gem in tutte le perline praticamente che mi trovo davanti e devo arrivare fino alla 11 di punta questa qui e metto sull'ago 3 11 0 inserisco nella 11 subito dopo e anche al piccolo ecco qui praticamente l'orecchino ragazze è finito farò qualche nodino mi fermerò e ci vediamo subito dopo ecco eccoci qui ragazze abbiamo finito allora io non ho messo il cap non ho messo il perno perché non so se tenerlo o guastarlo quindi vediamo vediamo perché se mi piace il colore poi sulla telecamera non ecco non non corrisponde al vero diciamo così io spero che vi piacciano e come dico sempre mi piacerebbe vedere le vostre versioni ne sarei molto molto felice perché mi fa piacere condividere con voi il tutorial e mi farebbe altrettanto piacere vedere le vostre versioni ovviamente quindi se vi piace come dico sempre mettete un dito in su iscrivetevi se non l'avete fatto e cliccate la campanellina in modo che vi arrivano poi le mie notifiche per ora vi do la buonanotte e a presto ciao ciao